Questo è una specie di rasghiato sul tamburo, oppure con il flam. Slepper, il flammy slapper. Il basso si può dare o ogni figurazione di flam. Oppure una sì o una no. Alla fine o pure a metà? Sul ca-on per esempio, se usate il ca-on, è carino questo, il rasghiato. Sulla gemba sarebbe meglio il flam, intanto l'effetto è lo stesso. L'effetto all'ascoltatore è molto simile. Magari a noi no, perché lo suoniamo, ma all'ascoltatore l'effetto è molto simile. Spero vi sia piaciuto, buon lavoro e grazie. 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 Grazie.